Siamo qui fuori al centro commerciale Campania, a Marcianise, in provincia di Caserta, anche noi per protestare contro i festivi lavorativi, perché migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori in tutto il paese sono oggi costretti a lavorare, come sono stati costretti all'angelo di Natale e come saranno costretti in altri festivi, lavoratrici e lavoratori che non hanno più diritto al riposo, non hanno più diritto al tempo libero. Noi oggi qui a Caserta, come in tante altre città d'Italia e in tutto lo stile dal sud al nord del paese, stiamo presidiando i centri commerciali per esprimere solidarietà a questi lavoratori, proprio per dire che il diritto al riposo, il diritto a festivi da trascorrere con le famiglie, con gli amici, insomma, trascorrendo il tempo libero come si vuole, come ci pare piace, è un diritto dei lavoratori e non può essere calpestato dalle riforme che sono state portate avanti in questi anni dai governi di centrodestra ai governi di centrosinistra. Lontale, creare, potere popolare!